eh vabbè io non so se riuscite a vedere ragazzi ma non so se si stanno accoppiando ma come fai qua guarda quanti vuoi e che devo fare qua? ma andate a fai a culo il problema di questo gioco è che la luminosità non la posso aumentare quindi il video è un problema guarda quanti dinosauri ci stanno ma che c'è la riserva naturale ah si stanno attaccati a loro oh f***a distruggerò gli atti gaming no non lo farò su ca su ca ben tornati ragazzi su atti gaming e siamo su thumping land e la prima missione di oggi è questa guardate ci sono due case il nostro obiettivo è distruggerle qui che c'è o 20 di allora facciamo una cosa facciamoci prima un arco lascia non me lo farò lasciare ah perché forse non è mio oh madonna perché non me lo farò lasciare vabbè allora cerchiamo di vedere se non c'è nessuno ok vai ragazzi la rischia è molto difficile questi sono fatti il loro accampamento ok prima capanna giù no il fuoco no seconda capanna questi saranno uscita da uccidere dinosauri oppure bo eh vai che cazzo che è questa rete ok perfetto missione qua qua c'è cibo qui cibo qui oddio che cazzo è non mi posso vedere chi mi ha ucciso però glielo ho distrutto due case va bene sponiamo ci dobbiamo fare un arco prima allora qui c'è la pietra ci facciamo il nostro archetto non mi ricordo quanto serve di pietra però prendiamone 3 per sicurezza serve più legno che pietra pulo ok ok e ora ci mettiamo la legna è dura la vita è dura la vita ragazzi la vita del trogleodito che cazzo è quello? un dinosauro? no no quello lì non ti fa niente ci dovrebbe dare il cibo quello ma sti cazzi la nostra missione è un'altra ok problema è che ho notato che quando ci metti le risorse in una cassa per costruire anche se la costruzione ti richiede meno risorse te le distrugge tutte del bug di me ma quanti archi ho fatto? ok alla ricerca prima fase esplorazione purtroppo il problema è che la sera io non posso alzare la luminosità dal gioco perché nelle opzioni video non c'è un cazzo cioè soltanto risoluzione e fullscreen basta non c'è luminosità e tutte le altre cagate siamo in pre 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 alfa mano punto appunto una zanzara mi sono immesso nel nell'habitat del troglodita ragazzi da qui non vedo niente non vedo non vedo forme di vita la cosa bella è che dovunque sei puoi prendere risorse quindi è comodo questo va bene vediamo quando trovo qualcosa ragazzi ho trovato un paese che cazzo è però ho visto questo che è l'accampamento quindi prima cosa è esplorazione e poi distruzione oh che bello accampamento poi c'è un fuoco ok ecco la notte è ancora meglio il problema è che ho visto ah eccolo ok ok ora è il momento ragazzi è il momento di griffare oh c'è un tizio c'è un tizio c'è un tizio non mi ha visto però ora cazzo mi hanno visto no no scappa fuga 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 erano in due bastardi 2.2 no ma l'arco no l'arco dove è ah ecco ok dovevo esplorare meglio la prima fase è andata a puttare però chi mi ha colpito mi ha sparato qualcuno bastardi 2.2 bastardo ma io io lo sento adesso ma che è questo oh oh no 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 mi devo fare l'arancia porco giuda fallita la missione è fallita ragazzi eh ma siamo stati dei cazzoni perché ci siamo fatti sgamare ok mi faccio una lancia il mirino mi faccio una lancia e riporto poi col video ok ragazzi ci siamo mi sono fatto una lancia e uno scudo eh 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 sono trovato l'accampamento di prima oh già mi hanno visto aspettate ragazzi come fanno a vedere lo metto qua eccolo eccolo zitti zitti non mi hanno visto vai ora gli sta dicendo dietro dietro aiuto di te vai 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 corri morto sì l'ho uccisi sì l'ho uccisi tutti e due morto ragazzi morto ragazzi no 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 oh mio dio ok 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 sono vicino un'altra volta dovrei essere vicino un'altra volta vi faccio un'altra lancia eh ragazzi ragazzi mentre ritornavo lì ho trovato una caverna vediamo che c'è perché le caverne sono i punti chiave di questo gioco oh mio dio dovevo prendere la torcia ah il buco il buco nero vediamo la torcia ma ma no inspect la roccia l'immelda piglia la torcia eh puttana maia la troia facciamoci una torcia va tanto la torcia mi sa si fa solo con il legno no ce la posso fare con due si eh la missione di kirving è andata male perché a parte il fatto che io ero in minoranza e poi è andata male perché dovevo testare prima la campagna cioè dovevo andare lì e dire ciao ragazzi come state posso unirvi a voi andiamo a cacciare popopombo quello che cose sono bacche ah che poi io se non ho capito male i dinosauri si possono cavalcare prendile o le prende ah ok sentite il suono ragazzi oh che succede mio dio come scatta ma perché scatta così ma io amo queste bacche che ce le faccio ok ok le caverne abbiamo capito che se ne fa puttane la grafica ok eh quindi con queste bacche c'è tra virgolette cioè all'inglese tame tame tammare i dinosauri e poi li posso tamaricare il problema che i dinosauri ti ammassano con due colpi ci vorrebbe un arco va bene se trovo un dinosaurio continuiamo l'esplorazione ok ok ho trovato un dinosauro mi sto facendo un arco ma ci ammazza vedi perdiamo pure le bacche io ce lo so però tentare non nuoce oh l'ho ucciso mi posso raccogliere eh ma scusa ma come lo faccio a cavalcare se è morto il dinosaurio non avevo previsto questo come faccio a cavalcare il dinosaurio se poi se lo uccido prima va bene va bene va bene cerchiamo l'ultimo ragazzi mi sa che dobbiamo chiudere il video perché è buio quindi se è buio che sta facendo quel tizio lì io non capisco se lo prendo sì l'ho preso scusate ma qua stanno a passare 10.000 ricotti ma dove ne scappa muori muori cattiveria aspetta ma se io faccio la sul cotto non trust you boh direi di chiudere il video ragazzi perché è buio la luminosità qua non si può aumentare l'azione di griefing è andata male però il prossimo video lo tatticamente e strategicamente lo facciamo meglio il piano il piano di attacco quindi da da hug è tutto ciao